Immaginavo che prima o poi questi quattro monti ti sarebbero mancati. Quando gli altri mi chiedevano di te rispondevo sempre Aspettate, aspettate. In questi due anni ne ho vesti ricotte di crude. Sai, spesso ho pensato che forse tu sei stato unico ad averci capito qualcosa. Te ne sei andata, hai mollato tutto. Hai cambiato tutto da quando sei partita. Ora qui comanda il caos. Comunque sì, sono qui per restare. Hai ragione, questi quattro monti proprio mi mancavano. Pur an, sono duvenare. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info